Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per mettere la bandana sotto qualsiasi tipo di cappello ragazzi Non potete metterla sotto i caschi, però sotto qualsiasi tipo di cappello va bene Allora, la potete mettere solo sotto i caschi da biker Allora, io adesso qui vi faccio vedere una cosa ragazzi Allora, se io metto per esempio un casco da biker E poi vado a mettere la bandana, non me la lascerà mettere Voi direte, cazzo hai appena detto che si può mettere sotto i caschi da biker Si, si può mettere però facendo un'altra procedura Quindi io ho il casco da biker ragazzi, vedete E io adesso vado a tentare di mettere la bandana, questo tipo di bandana con cappello Verde, gialla, viola, insomma come cazzo voglio Però non me la lascia mettere, automaticamente mi leva il casco da biker Quindi che cosa dobbiamo fare ragazzi, per poter fare il glitch Dobbiamo avere, innanzitutto mettere una bandana con gli occhiali e il cappellino E dobbiamo, dopodiché dobbiamo mettere un casco da biker Prima mettiamo la bandana con il cappellino, dopodiché mettiamo il casco da biker Come sto facendo io Una volta fatto ciò, salviamo il tutto ragazzi Quindi andiamo a salvare il tutto E scegliamo il cappello che vorremmo metterci sotto la bandana Potremmo scegliere qualunque tipo di cappello, più o meno tutti Non credo che ci sia molta differenza tra uno o l'altro Allora, una volta fatto ciò ragazzi Dobbiamo essere, ricordatevi di diventare presidenti per il passaggio successivo Quindi, quando abbiamo impostato il tutto L'unica cosa che dobbiamo fare è mettere il completo col cappello che vorremmo sulla bandana Andare vicino l'auto Metterci su stile, paracadute Mentre stiamo salendo andiamo a mettere il completo che avevamo Cioè quello con il casco da biker ragazzi Come vedete, a questo punto abbiamo Diciamo il completo con questa cosa qui, insomma Il casco con la bandana Ora che cosa dovete fare? Essendo presidenti, andate su stile del presidente E mentre state salendo in moto Fate un cambio E poi ritornate su nessuno Su no Come faccio io, guardate Fate un cambio e poi ritornate su nessuno Quindi a questo punto Potete scendere tranquillamente dalla moto E avrete il vostro Diciamo il vostro La vostra bandana con il vostro cappello Insomma ragazzi E' semplicissimo Ricordatevi di salvare E vi auguro di fare dei bei Dei belli outfit con questa cosa Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti No mercy